Sì, grazie, prima di mostrare un nuovo video, oggi vedo come sta a girare questo telefono. Una cosa semplicissima, basta avere una PS4, un telefono Android, la comanda, e la vostra PS4 è l'aria di Woodstocks dentro. Un'altra, fatto questo, dovete scadliare un animatore che si chiama Remote Pay. Una volta fatto questo dovete fare le funzioni che dice l'applicazione, mettere alla vostra mille tasto del vostro account PS4, e anche fatto questo avrete la pistola del vostro telefono. E quindi vorrei giocare a Woodstocks per fare tutto, come se vuoi dire, e fare anche altri fotografi e altri funzioni. Spero che vi è piaciuto, iscriviti al canale, e ti mi piace, alla prossima.